Intanto è proprio perché sono un attore bravo e famoso, se no non avrebbe avuto senso farlo, quindi significa attenzionare, provocare l'attenzione del pubblico su un progetto che tenta di risolvere una problematica piuttosto pesante che c'è in Sicilia. Quindi mandare dei messaggi mediatici a favore all'educazione, alla civiltà e alla legalità. Questa Sicilia deve assolutamente affrancarsi in maniera assoluta della triste nomea che ha di terra di sangue, terra di incertezze, terra di mafia, terra di disagi sociali. Ci sono, lo sappiamo, non bisogna mai abbassare la guardia. Il Corecom svolge questo tipo di attività da diversi anni. Il programma dell'accesso è una normativa che esiste da diversi anni e il Corecom quando ha saputo che l'associazione aveva intenzione di inviare un'istanza, che è stata chiaramente all'area cipita, l'ha fatto l'istruttoria e chiaramente è stata inserita all'interno del programma trimestrale dell'inizio 2013. I programmi dell'accesso è una iniziativa estremamente importante, specialmente per gli enti territoriali e le associazioni ONLUS, perché consente loro di poter andare dalle 10 alle 10 e mezza del mattino sulla RAI regionale per promuovere le proprie iniziative o i propri territori. L'importante è che all'interno dello spot non ci sia alcun riferimento commerciale o politico.